Buongiorno bambini, oggi faremo un fiore di carta. L'occorrente è un tovagliolo di carta bianco o anche colorato, un nastrino e una forbice. Bene, possiamo procedere. Bisogna prendere il tovagliolo dalla parte chiusa. Lo piegiamo per bene, fin quando, una volta da una parte e una volta dall'altra, perché non siamo arrivati alla fine. Un po' di pazienza. Bene, ora prendiamo il nastrino e più o meno alla metà, lo annodiamo. Bene, ora prendiamo la forbice, è un pochino duro, arrotondiamo il bordo finale. Se non riuscite, potete farvi aiutare anche dalla mamma o dal papà. State attenti sempre quando usate le forbici. Bene, ora con delicatezza andiamo ad aprire il nostro tovagliolo e con molta pazienza, dobbiamo aprire per benino tutti gli strati, facendo attenzione a non romperli. calma, piano piano. insomma, continuiamo così da una parte e dall'altra. ecco, poi guardate bene se l'avete aperto tutto, tutto, tutto. eh. Molta attenzione e ecco il nostro fiore quasi completato. Ecco, un fiore e un altro fiore. Ciao, ciao! Ciao!